Radio Flash e Livorno Magazine.it presentano Innamorarsi di Livorno Fossi e non canali di Riccardo Ciorli Terza puntata Nel 1603 vengono terminate le opere preliminari al Fosso Reale, vengono demolite le palizzate di contenimento della Fortezza Vecchia e all'Alsenale Medicio, forte di Porta Murata, e in questa maniera l'acqua del mare penetra nel tracciato appena realizzato, andando a mescolarsi con quella proveniente dai canali dell'entroterra, come i Riseccoli, il Cigna e il Navicelli. In questa maniera l'acqua salata si confonde con quella dolce, dando vita ad un ambiente naturale che nella zona di Porta Appisa è valutabile essere prevalentemente di acqua dolce, mentre nei canali della Venezia Nuova, realizzati dal Santi nel 1629 e nel 1635, l'acqua è spesso salata. Nell'Ottocento il Fosso Reale viene ridimensionato, costruendo ai suoi fianchi grandi muraglioni che restringono l'originaria ampiezza portandola da 30 metri a circa 20, mentre la profondità passa da 2 metri a 4 metri e 30. Tra il 1874 e il 1880 il Consiglio Comunale, per trovare una soluzione al fetore che viene dai corsi d'acqua ormai trasformati in fogne a cielo aperto, decide una generale ripulitura dei fondali, di cui solo una parte hanno la foderatura in pietra, quello prospicente alla Casina delle Ostri che per garantire una maggiore pulizia ai mitili si era appunto pensato di rivestire in pietra. Tra marzo e giugno di quell'anno vengono raccolti ben 27.000 metri cubi di melma e liquami e dall'indagine svolta si accerta che le fabbriche più inquinanti presenti allora in città sono due distillerie di acquavite, nove fabbriche di canditi, una fabbrica di amido e tre birrerie. Con l'avvento dei piani di risanamento fra le due guerre mondiali si incomincia a buttare nei fossi parte delle costruzioni demolite. Ma quello che più impressiona è l'opera fatta dopo il 1945. Gli apripista alleati gettano nel fosso insieme alle macerie non solo degli ordini bellici ma anche quello che restava di un caccia inglese abbattuto dalla contraerea che si trovava in fortezza nuova. Il risultato è stato che la profondità del fosso, nonostante traga da cui ha avuto origine la ben nota vicenda delle teste di Bodigliani, continua ad essere scarsa, specie in vicinanza degli approdi. C'è inoltre da tenere presente che non essendoci quasi più a porti dai canali immissari, il corso d'acqua vive della scarsa comunicazione con il mare aperto. La sorte del fosso reale potrebbe essere quella che sta avendo il canale dei navicelli, iniziato a scavare con singolari idee in Venezia, rimanere a secco. Potete riascoltare questa puntata in on demand su www.livornomagazine.it e nella